se da un lato ci sono i seri vacantisti dall'altro invece ci sono delle realtà alcune staccate si dalla fraternità san pio decimo la fraternità san pio la fraternità san pietro di silvio il buon pastore tante realtà diciamo più o meno indipendenti di uno due tre preti eccetera che invece hanno deciso di fare un compromesso un accordo con roma no e guardate molto interessante perché la storia libro mi diverto un po a ritracciarla no perché in tutti i casi quasi tutti c'è stato un procedimento identico cioè cosa succede questi sacerdoti dicono no va bene noi vogliamo avere l'accordo con roma perché accordo con roma poi ci dà le chiese ci dà un certo apostolato che poi non è nemmeno vero perché roma getta l'esca e poi naturalmente tira tira l'enza è chiaro no e però lo faremo mantenendo le stesse posizioni che ha la fraternità san pio decimo quindi scende il concilio non va bene non va bene eccetera eccetera no quindi roma inizio dice sì sì va bene ve lo lasciamo fare caso del monastero del barù in francia caso della fraternità san pietro caso il buon pastore un film di caso dell'amministrazione apostolica di campos in brasile è sempre uguale qui dentro avete tutti i dati le citazioni eccetera cosa succede roma ti dici sì sì vieni potrei continuare a fare come prima però in una posizione diciamo così di regolarità però cosa succede succede che quando sei in una posizione regolarità vuol dire che in ultima istanza delle tue decisioni decide la santa sede ora non è come sostengono alcuni va bene che bello essere separati dalla santa sede non è questo il punto è il punto è che oggi la santa sede ti fa andare nella sua direzione che è quella del modernismo no ma è evidente cioè se il papa ha certe idee quando deve prendere una decisione su come funziona il tuo istituto su quali sono le tue posizioni eccetera chi favorirà chi nominerà come superiore no allora noi vediamo questi diversi istituti nessuno escluso che a poco a poco dicono no ma dopo tutto anche la nuova messa va bene dai non dobbiamo essere troppo esclusivi noi preferiamo la messa antica però va bene anche quella nuova sulla dottrina la stessa cosa mi limita a citarvi uno degli esempi più recenti no quando c'è stata tradizione scustores molti di questi istituti si sono arrabbiati allora ci sarebbe potuto aspettare che avessero detto no noi non seguiremo mai questo documento no ma noi tutti ci speravamo perché contrariamente a quello che alcuni affermano non è che noi della fraternità san pio decimo siamo contenti di vedere delle persone che si annacquano e che a poco a poco aderiscono alle dottrine moderniste no invece cosa è successo i superiori di tutti questi istituti si riuniscono a bordeaux in francia fanno una riunione e cosa esce fuori esce fuori un documento in cui loro dicono no ma perché ci avete tolto la messa dopo tutto noi accettiamo la nuova messa accettiamo le dottrine del concilio e anzi concludono con delle citazioni di amoris letizia come dire vabbè anche quello dopo tutto ci va bene cioè si continua si continua a leggere quella c'è si trova su internet questo qui c'è la citazione cosa succede a un certo punto si è entrato in un meccanismo dove per mantenere i pochi i propri privilegi va bene si accetta di averci una posizione pubblica perché guardate che è la posizione pubblica che conta poi che in privato uno dica no ma in realtà non sono d'accordo ma non va mica bene nella fede non è che io possa avere una posizione pubblica diversa a quella privata se noi martiri non sarebbero mai esistiti perché uno andava lì sacrifica a saturno si va bene io pubblicamente sacrifico però dentro di me mi tengo la fede ma non va mica bene così cioè io non è che posso dire in pubblico io aderisco al concilio aderisco alla nuova messa aderisco al nuovo magistero pensando che io in realtà non sono d'accordo cioè questo è una cosa estremamente grave estremamente grave quindi io preferisco pensare che loro hanno veramente cambiato idea piuttosto che pensare che stiano facendo una commedia perché dal punto di vista morale sarebbe meglio c'erano io non lo voglio sapere però non si tratta di diplomazia si tratta di una menzogna in materia in materia di fede è stata di un peccato contro la professione di fede per lo meno se loro sono convinte il contrario io se sono convinto che lo stato come dire che che per principio lo stato debba riconoscere la vera religione non posso dire per averci la chiesa per averci favore episcopale no no in realtà lo stato deve essere laico questo non va bene così come il cristiano dei primi secoli non poteva dire io credo a giove a giunone per avere salva la vita anche se poi dentro di lui non ci credeva va bene quindi attenzione perché questo atteggiamento non è in nessun modo ammissibile chiaramente però vedete c'è una frase indicativa che perché attenzione tutto questo era voluto e progettato dal romano c'era il il cardinale cotta che era uno di quelli che ha diciamo che ha che ha guidato questo traghettamento e gli istituti ex ecclesia dei a roma che dice dobbiamo aspettarci ci sto citando è poco alla volta altri atti di avvicinamento per esempio la partecipazione alla concelebrazione del rito riformato ma bisogna avere pazienza l'essenziale che non si oppongano a lungo l'unità ritrovata insieme alla chiesa in sé una dinamica interna che porterà i suoi frutti in altre parole stando con lo zoppo si impara a zoppicare se tu dipendi nelle tue casse nelle tue chiese eccetera dipendi dal vescovo per cui a un certo punto nelle tue ordinazioni le tue ordinazioni buon pastore è stato distrutto così buon pastore prima le hanno dato degli statuti dove sembrava che si potesse fare tutto ma chiaramente aveva mai dedicato quale è stata e vabbè se tu non cambi io non ti mando i vescovi per ordinare ma è semplice non c'era bisogno non c'era bisogno di rifare un nuovo esterimento visto che tutte queste cose erano già successe alla fraternità a San Pio X negli anni 70 ecco perché la fraternità a San Pio X dice no no attenzione cioè noi a questo gioco non ci stiamo poi per carità siamo anche noi esseri umani Roma ci ha provato anche con noi purtroppo ci possono essere state delle persone che hanno creduto la buona fede di Roma per fortuna poi ci siamo accorti che era una trappola anche lì e ripeto vedere cosa è successo a tutti questi istituti quelli che ho citato io sono stato tra l'altro prima di entrare in età un anno di Francesca Immacolata quindi certe cose le ho vissute sulla mia pelle Roma vuole questo Roma semplicemente vuole piano piano che uno aderisca ma no attenzione non è che non è che Roma voglia direttamente la soppressione di questi istituti no perché questo significherebbe fare dei martiri significherebbe provocare una reazione molto forte no no questi istituti devono essere neutralizzati a me a Roma va benissimo se c'è uno che celebra una messa antica nella sua cappellina senza dare troppo fastidio con i suoi fedeli senza fare propaganda senza dire che si oppone al concilio la nuova messa no perché perché la chiesa moderna il modernismo è ridurre tutta d'opinione non è che loro vogliono che come dire i preti dell'istituto di Cristo Re domani vadano a dare la comunione divorziati risposati l'importante è che non vi si oppongano in pubblico no perché la chiesa che vogliono i modernisti che vuole Paolo VI, Benetto XVI, Francesco Francesco fa ancora di più è una chiesa dove ci può benissimo essere quello che pensa che la comunione divorziati risposati non vada bene e quello che pensa che vada bene a condizione che ciascuno pensi che questa è solamente un'opinione perché la verità lo dice sempre Francesco la verità è troppo alta per noi non possiamo avere la pretesa di conoscere la verità no? il modernismo è questo quindi se uno accetta che la messa tridentina come diceva Benetto XVI nel modo proprio sia una sensibilità no? un gusto vabbè io la preferisco all'altra ma anche l'altra mi va bene e questo mi va bene insomma fra l'altro vi vorrei far notare una cosa tutti questi istituti si sono e con questo poi concludono tutti questi istituti si sono lamentati istituti anche sacerdoti perché il Papa ora siamo in una fase di stretta no? quindi vorrebbe limitare l'uso del rito antico in realtà secondo me vuole limitare soprattutto la diffusione del rito antico io non so se mi sembrerebbe un grave errore tattico proibirlo del tutto questo andrebbe piuttosto farebbe gioco alla tradizione però gli errori tattici sono possibili grazie a Dio però dal punto di vista tattico la cosa migliore è quello di confinare tutto in una riserva indiana però il discorso è questo scusa tu istituti ecclesi dei ti lamenti che il Papa ha posto le restrizioni contraddizioni scustodes no? però questa lamentela è priva di oggetto perché? perché se tu dici che anche la nuova messa va bene ok? ma allora quando c'è l'alternativa fra due cose no? di cui una magari migliore e l'altra peggiore ma tutte e due buone se il superiore ti dice o le circostanze ti dicono che tu devi fare quella oggettivamente meno buona è quella che devi fare vi faccio un esempio no? io sono un sacerdote quindi ho un mio superiore anzi ho diversi superiore il mio priore poi il superiore di ristretto poi il superiore generale allora fra studiare e andare a fare una scusate fra pregare e andare a fare una passeggiata secondo voi qual è l'azione oggettivamente migliore? pregare no? però se il mio regolamento il mio superiore di ristretto guarda in questo momento sei stanco vatti a fare una passeggiata io cosa devo fare? io devo andare a fare una passeggiata perché non mi sta comandando qualcosa di cattivo se mi comandasse guarda vai a rubare no? lì mai no? ovviamente ma se mi comando un'altra cosa che comunque è buona io la devo fare perché in quelle circostanze avendo me lo chiesto il superiore è buona no? ok? ora se io dico che anche il nuovo rito va bene ma con quell'argomento mi posso opporre il Papa quando dice scusa ma tu stesso dici che il rito nuovo va bene quindi se io ti chiedo di celebrare in certe circostanze perché ti opponi? non è che si può andare la Chiesa è una società gerarchica non è che si va a gusti a me piace di più il rito non lo so il rito ambrosiano quindi il Papa deve assolutamente permettere di celebrare sul rito ambrosiano quando magari io mi trovo in un luogo dove il rito ambrosiano non si celebra capite qual è il discorso? cioè questo diventa un argomento puramente sentimentale ma che non vale niente allora io sono più attaccato al rito che si celebra nel 500 e quindi io sono più attaccato al rito che si celebra nel 300 no? la Chiesa stabilisce quale rito gli debba utilizzare e io mi devo sottomettere alla Chiesa a meno che e qui si viene sulla posizione della fraternità di chi resiste a meno che non si ritenga che la nuova messa non è buona che sia un rito che non è buono perché non esprime più la fede cattolica allora lì è diverso allora io lì non solo posso ma debbo rifiutarmi di utilizzare e posso continuare il rito antico ecco perché io mi ricordo una volta c'era una fedele che dopo tradizione di scustodio ci chiamò tutta l'armata ma allora come farete voi questo ma le signora non cambierà niente perché noi abbiamo le nostre cappelle che spesso sono sapete no? cioè non so se si è rimasta da noi a volte sì qualche cappella carina ce l'abbiamo ma se no sono edifici comprati da noi in una stanza a piano terra un edificio riadattato eccetera eccetera e noi in quelle cappelle continuiamo a dire la messa come l'abbiamo sempre fatto sia quando l'ha proibito Paolo VI sia quando l'ha proibito ora anche se in maniera più parziale Francesco e che non ci sono guarda anche questo che la messa è già stata proibita a suo tempo da Paolo VI no? e comunque la messa non è mai stata completamente libera neppure insomma sotto benedetto sedicesimo ma questo bisogna che c'erano delle condizioni per poterla dire in pubblico detto questo è chiaro che se tu hai un'idea chiara di cos'è giusto di cos'è sbagliato non attenzione ripeto perché è la nostra opinione perché è quello che la Chiesa ha sempre fatto ha sempre creduto è chiaro che poi non ti sgomenti più di quello che fa Roma semplicemente perché tu sai che ha un ordine ingiusto ha un ordine legittimo non si può e non si deve obbedire perché lì non c'è nessuna obbedienza che tenga se si vuole usare una posizione che certo è più comoda perché noi non abbiamo la grande Chiesa barocca la casa che non è nostra e che ci sarà di oggi noi dobbiamo fare tutto con le offerte dei fedeli naturalmente dobbiamo farci chilometri io faccio chilometri e chilometri la domenica per andare a dire messi in diversi posti e come dire questo però ci dà la libertà appunto di poter dire di poter dire le cose in pubblico di poter dire il concilio non va bene non va bene queste concilio non vanno bene di poter attaccare ripeto attaccare non per odio verso le persone nessuno odia il Papa nessuno odia magari uno può non sopportarlo io chiaramente c'è la pelle non lo posso vedere penso quanto voi però il problema non è questo il problema è che io devo come dire non è che basta che dica non lo sopporti devo dire cosa sbaglio devo poter dire in pubblico sui siti internet nelle omelie nelle conferenze nei libri nelle pubblicazioni eccetera certo questa libertà ha un prezzo però mi sembra che valga la pena pagarlo non lo sopporti 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 no lo sopporti non lo sopporti Grazie per la visione!